il papà era arrivato era da capodanno che mai non lo vedeva si sentiva in imbarazzo ma felice anche se era soprattutto molto preoccupata di cosa avrebbe pensato della sua situazione quando la macchina del papà arrivò mai si trovava proprio nel giardino sul davanti lui la notò e scese dall'automobile tutto contento ciao mi sembro in forma mai appaggiò l'ennaffiatoio che aveva in mano e corse da lui papà hai preso le ferie il papà si racchiò all'indietro il corpo magro per la sua altezza ma poco armonico sì non aspettavo altro grazie a te posso finalmente rilassarmi la nonna in cucina va bene andiamo il papà cominciò a camminare appoggiando una mano sulla spalla della figlia ma era pesante quindi mai si divincolò e camminò avanti con nonchalance la nonna era in cucina che preparava l'impasto per una torta o qualcosa del genere ah ben arrivato devi essere stanco quando vengo qui mi sento davvero a casa grazie per esserti presa cura di mai il papà chino la testa mentre la nonna avvolse l'impasto in un panno bagnato e lo mise in frigorifero poi si lavò le mani mise dell'acqua fredda nel bollitore e lo mise sul fuoco non mi annoio grazie a mai quasi quasi vorrei che restasse qui per sempre la nonna fece un sorrisetto e guardò mai e suo padre in faccia la nipote sapeva che la nonna l'aveva detto apposta perciò sbirciò il volto del papà lui stava sorridendo ma nello stesso tempo aveva un'espressione tesa papà ci hai portato un souvenir chiese mai guardando il sacchetto di carta che papà teneva in mano oh giusto me ne ero dimenticato questo è da parte della mamma disse tirò fuori delle scatole di cioccolatini e di biscotti dei cavoletti di bruxelles e altre cose oh la nonna li accettò con gioia e andò a metterli in frigorifero adorava i cavoletti di bruxelles il papà estrasse poi una grossa busta marrone e la diede a mai sono i materiali per la scuola non c'era bisogno di specificarlo la busta era incredibilmente voluminosa e pesante e questo è un vero souvenir il papà le regalò dei dolci della città di t dove seda trasferito per lavoro era una confezione molto elegante avvolta in una bella carta verde muschio dal gusto moderno e chiusa da una cordicella dorata sottile e raffinata che bella cosa c'è dentro la nonna preparò il tè su un vassoio e lo portò un dolce sono dolci giapponesi ma ripieni di crema pasticcera oh grazie mille assaggiamoli mai forse il papà l'ha fatto per gentilezza perché la nonna è straniera ma se è così vuol dire che ancora non la conosce per niente mai si lasciò prendere dai suoi pensieri questi non sono i gusti della nonna lei preferisce i prodotti veramente originari del posto anche se hanno un sapore a cui non è abituata il dolce era base di soffice pan di spagna ripieno di crema pasticcera e di per sé era anche buono ma per mai era troppo leggero e zuccheroso e non la convinse forse perché era abituata ai dolci pesanti e pieni di spezie frutta secca della nonna la nonna lo mangiò in silenzio e con un'espressione seria come se si stesse portando alla bocca qualcosa di sacro mai percepì una certa tensione nell'aria di punto in bianco il papà cominciò a parlare in tono formale ne ho parlato anche con la mamma penso che sia ora di vivere tutti e tre insieme nella città di t e cosa ne pensi era una proposta che mai non si aspettava minimamente prima ancora che potesse aprire la bocca la nonna chiese una conferma quindi mia figlia lascia il lavoro dice che sarebbe disposta a farlo e la scuola mai parlò a voce così alta da stupirsi da sola dovresti trasferirti mai sentì che il papà e la nonna stavano trattenendo momentaneamente il respiro in attesa della sua risposta non sapeva come reagire in teoria avrebbe dovuto essere felice di non andare più in quella scuola che odiava però con sua stessa sorpresa non era serena come se qualcosa non quadrasse devo decidere subito probabilmente il papà era convinto che mai sarebbe stata contenta e sembrava un po' sorpreso sì esatto stanotte dormo qui riparto domani perciò dovresti dirmi cosa ne pensi prima che me ne vada va bene in ogni caso visto che sono venuto in macchina andiamo a fare un giro in città a quelle parole l'espressione di mai si illuminò davvero anche la nonna ma certo la nonna sorrise e prese una penna e un blocchetto per gli appunti che si trovavano vicino a lei sei gentile ma ho diverse cose da fare andate pure voi due che da tanto che non state insieme in compenso fate un po' di spesa oggi volevo preparare la quiche che piace tanto a papà però mai e il papà lanciarono un grido di felicità all'unisono era per quella l'impasto di prima devo confessare che ci speravo hai un ottimo intuito quindi mi servono funghi champignon peperoni rossi uova latte a poi dal bacon la nonna scrisse la lista delle cose da comprare così come le venivano in mente mai la prese e si alzò di scatto da tavola allora noi andiamo nonna e di giù il papà traccannò il tè in tutta fretta e si alzò divertitevi partirono con la macchina mentre la nonna li seguiva con lo sguardo mai hai preso colore sembri davvero in forma mi sono abbronzata si vede che stai bene come haidi ma sì succedeva che haidi si ammalava a stare in città così tornava in montagna e guariva no sì hai ragione mai pensò tra sé e sé che in effetti l'era successa proprio la stessa cosa ci voleva circa mezz'ora di macchina per arrivare in città visto che era da tanto che non saliva su un'automobile mai si gustò appieno il paesaggio che scorreva fuori dai finestrini il panorama che si apriva all'improvviso i campi di grano ancora verdi gli uccellini che passavano in volo i fiumiciattoli che scorrevano tra gli alberi in leggero declivio e le risaie che li costeggiavano il venticello che entrava dai finestrini se ci trasferiremo nella città di t forse non potremo più venire a trovare la nonna tanto di frequente come adesso con l'alta velocità ci vogliono tre ore no sì però casa sua è parecchio lontana dalla stazione per cui se si considera il tempo che ci vuole fino alla stazione della città di t il tempo di attesa per il treno il tempo dalla stazione a casa della nonna alla fine ci vuole mezza giornata praticamente lo stesso che in macchina capisco mai non aveva una grande esperienza di questo mondo ma capiva istintivamente il grande valore del paesaggio che si estendeva oltre i finestrini non posso restare qui per sempre i cetri del giappone con le cime mosse dal vento allineate al di là delle risaie il fiume un po in ombra che scorreva ancora oltre le montagne verdi le nuvole bianche e proseguendo il cielo azzurro mai non riusciva a staccare gli occhi dal paesaggio in preda un sentimento che poteva essere tristezza o nostalgia la nonna è proprio contenta che la mamma smetta di lavorare vero come fai a saperlo vedi la nonna è una di quelle persone che pensano che le donne dovrebbero stare a casa e occuparsi della famiglia credo anche quando ci siamo sposati la nonna ha detto alla mamma che forse avrebbe fatto meglio a smettere di lavorare ma lei non l'ha fatto si è ribellata con tutte le sue forze il papà non parlò del fatto che la mamma al tempo gli disse che la nonna le aveva fatto in realtà moltissime pressioni però per mai fu una sorpresa anche solo scoprire che la mamma si fosse ribellata la nonna non me lo immaginavo la nonna e la mamma sembrano andare così d'accordo certo che vanno d'accordo però la nonna ha un carattere molto forte anche io molto rispetto per lei però a volte mi sembra che vive un'altra epoca ovviamente il papà viveva immerso nelle nuove tecnologie tra computer montagne di dati fiumi di fax erano responsabili delle rughe delle leggere occhiaie che appesantivano il suo volto scavato e non più tanto giovane ma rappresentavano anche la solidità del mondo reale era questo che mai aveva lasciato al di là dei monti ormai è quasi un anno che mi sono trasferito per lavoro e vivo da solo pensavo che fosse ora di fare qualche cambiamento ma facevo fatica a dirlo la mamma sono riuscito a parlargliene grazie a te perciò ti sono grato mai anche se detto così può sembrare strano sì è strano mai a noi si intravide il primo semaforo in fondo la discesa del valico visto che era giallo il papà cominciò a ridurre pian piano la velocità e fermò dolcemente la macchina quando era la mamma a guidare inchiodava sempre all'ultimo facendola saltare in avanti invece il papà frenava in modo davvero dolce mai fece un respiro profondo per riprendere fiato senti sì ti ricordi papà un sacco di tempo fa ti ho chiesto che cosa succede quando uno muore davvero e io cosa ho risposto mai ci restò molto male però portò pazienza e rispose hai detto che quando uno muore finisce tutto la voce di ma era bassissima e piena di risentimento perciò il papà scoppiò istintivamente a ridere deve essere stato parecchio tempo fa allora tutti la pensavano così però adesso a essere sincero non lo so ci sono tante opinioni diverse negli ultimi tempi sembra che non vada più di moda a pensare che con la morte finisce tutto il semaforo divenne verde il papà ripartì premendo sull'acceleratore con la stessa dolcezza con cui si era fermato non va di moda la quiche della nonna era deliziosa il papà aveva bevuto la birra che aveva comprato durante il giro in macchina e gli era venuto subito sonno perciò la nonna aveva chiesto mai di accompagnarlo al suo letto nel sottotetto portati le lenzuole rifai il letto per te preparo il futone in camera mia mai annui si alzò in piedi e richiamò l'attenzione del papà su papà andiamo scusatemi negli ultimi tempi dormo poco niente povedino vai a riposare grazie buonanotte buonanotte mai apri uno degli sportelli dell'armadio che si trovava in corridoio e tirò fuori un set di lenzuola non sapevo che ci fosse un armadietto qui come ordinato tutti gli asciugamani grandi e quelli piccoli sono ripiegati con cura dai una mano anche tu sì c'è una tecnica precisa per piegarli in modo che quando li riponi sia tutto in ordine mai provò un certo orgoglio brava il papà diede due colpetti affettuosi sulla testa di mai poi si fermò un attimo di fronte alla porta della sua camera e appoggiò la mano sulla porta della stanza del nonno volevo molto bene al nonno alla mamma non interessavano granché i minerali perciò dopo il matrimonio ogni volta che lo incontravo il nonno mi insegnava qualcosa sulle pietre mi trattava come un figlio quando poi parlava di minerali si faceva prendere dall'entusiasmo gli occhi gli brillavano come quelli di un bambino durante le nostre passeggiate montagna capitava che si fermasse all'improvviso per raccogliere un sasso e quando pensavi che si sarebbe messo a osservarlo in un batter d'occhio se l'era infilato in bocca e lo stava addentando se li mangiava no no è un modo per testare la durezza dei minerali gli volevo molto bene disse il papà abbassando gli occhi poi alzò lo sguardo entrò in camera di mai e la osservò stupito mentre preparava velocemente il letto wow fino all'altro giorno eri ancora una bambina e adesso hai imparato a fare tutte queste cose bisognerebbe pagare la nonna per le lezioni da ultimo mai batte ai quattro angoli del letto con la mano ecco è pronto buonanotte papà grazie per oggi anch'io mi sono divertito grazie buonanotte a te mai ritornò in cucina tutta tronfia sentendosi una casalinga provetta la nonna aveva sparicchiato e stava avvolgendo la quiscia avanzata nel cellophane domani gli chiedo di portarla alla mamma ma ottima idea la mamma ne sarà sicuramente contenta mai raggiunse il lavandino si rimboccò le maniche e cominciò a lavare i piatti la nonna di fianco a lei li asciugava con un panno asciutto che cosa ne pensi del cambio di scuola nonna dunque vediamo in linea di principio penso che per una famiglia sia meglio vivere insieme quello stupido di papà non si ricordava nemmeno che cosa mi aveva detto che quando si muore finisce tutto ti sei arrabbiata non meritava la mia rabbia ha detto che adesso non va più di moda dire che dopo la morte finisce tutto quindi nemmeno lui adesso lo pensa più la nonna ridendo di gusto contagiò anche mai che scoppiò a ridere quanto si può essere irresponsabili roba da pazzi e padre ma non se ne rende conto tuo padre è sempre fedele a se stesso e a te mai ti tratta alla pari e sente la necessità di essere sincero voleva essere un ammonimento per la nipote ma la nonna aveva le lacrime agli occhi per le troppe risate e non fu molto efficace vabbè non lo fa per cattiveria però ha poca capacità di immaginazione non si è chiesto quali conseguenze può avere ciò che dice una famiglia ancora piccola in effetti però ci sono tante persone che mancano lo stesso modo di immaginazione lo so tagliò cortomai buttando via l'acqua della bacinella per i piatti quando anche la nonna ebbe finito di asciugare l'ultimo piatto lavò il panno che aveva usato e lo stese ad asciugare al resto ci penso io tu preparati per la notte quando mai ebbe finito di lavarsi i denti il resto di mettersi il pigiama e di infilarsi sotto le coperte in camera della nonna lei era già arrivata aveva spento la luce ed era curicata di fianco a lei hai fatto presto nonna grazie al tuo aiuto non mi restava niente da fare ah nonna sì secondo te come mai papà non mi chiede perché non vado a scuola la mamma te l'ha chiesto no ora che ci penso nemmeno tu perché abbiamo fiducia in te siamo tutti convinti che tu abbia un buon motivo se dici di non volerci andare mai si tirò la coperta fino al mento le amicizie tra ragazze sono particolari appena cominciano le lezioni si formano subito dei gruppi poi durante la ricreazione si fa in bagno tutte insieme o si parla delle star preferite deve essere dura se si entra a far parte di un gruppo di amiche con cui sembra esserci un po di feeling fino all'anno scorso ce l'ho riuscita benissimo però non so perché quest'anno non avevo voglia di entrare a far parte di un gruppo sì non avevo voglia di mettere in pratica quelle strategie di quando si formano i gruppi sorridere quando incontri lo sguardo di una ragazza con cui vorresti fare gruppo mettercela tutta per partecipare attivamente a una conversazione su un tema che ti interessa accompagnare le altre in bagno anche se non vuoi senza un motivo preciso ho cominciato a pensare che fossero patetiche e meschine ti capisco quindi quest'anno non ne ho messa in pratica nessuna così anche quelle che fino all'anno scorso erano mie amiche sono entrate a far parte di altri gruppi e alla fine sono rimasta sola quelle che sono entrate a far parte di altri gruppi non possono più essere tue amiche no non possono mai si voltò verso la nonna le sembrava di spiegarle come funziona un impianto stereo anche se vogliono parlarmi devono tornare subito nel gruppo se le chiamano in altre parole così facendo ne testano la fedeltà perché loro devono dimostrare a che cosa tengono di più è complicato molto però io non ce l'ho con loro non possono farci niente e tra gruppi non si parlano a volte litigano a volte vanno relativamente d'accordo ma quest'anno nella mia classe sembra che tutti i gruppi si siano alleati che è una cosa rara è possibile una cosa del genere si è semplice basta scegliere un nemico comune non c'era bisogno di aggiungere altro la nonna fece un profondo sospiro mentre mai tacque per un po' per ritrovare la calma si sentì fiera di se stessa per non aver pianto nonostante tutto quindi visto che papà mi ha detto di rispondergli sul cambio di scuola entro domani non ho fatto altro che pensarci le streghe prendono le loro decisioni da sole lo sai la nonna toccò la fronte di mai con l'indice sì lo so però ascoltami ancora va bene va bene anche se cambio scuola riesco a fuggire da quella classe il problema principale non si risolverà per questo non riesco a essere semplicemente contento mi sento in colpa a scappare di fronte al nemico risolvere il problema principale per un aspirante strega le prime armi come te è impossibile in questo caso il problema la base è l'insicurezza di tutta la classe ciascuno dei tuoi compagni ha le sue insicurezze però penso di avere un problema anch'io ero troppo debole devo diventare abbastanza forte da essere indipendente oppure scegliere la comodità del gruppo perché non scegliere di volta in volta non devi sentirti in colpa solo perché hai scelto il posto in cui vivi meglio un cactus non ha bisogno di crescere nell'acqua un fiore di loto non fiorisce mai fuori dall'acqua chi biasimerebbe un orso polare per aver scelto di vivere al polo nord anziché alle hawai era un discorso convincente però mai non si diede per vinta ormai non aveva quasi più nessuna remora a parlare con la nonna tu nonna mi dici di decidere da sola però a me sembra che mi conduci sempre dove vuoi tu la nonna sgranò gli occhi distogliendo lo sguardo e fece finta di non aver sentito il giorno seguente il papà si svegliò subito dopo che mai e la nonna avevano finito di pranzare vedendolo scendere al piano di sotto mezzo addormentato in pigiama la nonna rise dicendo che era tale quale a sua figlia mai fece l'arrabbiata mentre il papà si sedette a tavola sorridendo con aria imbarazzata ho dormito benissimo davvero grazie mai mai cominciò subito a preparare da mangiare per il papà la nonna lo guardò in volto e sorrise allora alla fine cosa hai deciso di fare chiese il papà alla figlia mentre beveva il tè questa volta fu mai a guardare la nonna in volto ho deciso di venire a stare con te insieme alla mamma gli occhi del papà si illuminarono davvero lo sapevo mai osservando la felicità del papà pensò di aver fatto la scelta giusta non sapeva se la nuova scuola sarebbe stata il suo polo nord ma valeva la pena tentare è lì che porterò in avanti in segreto l'attestramento da futura strega questa era la decisione di mai è meglio cominciare il prima possibile visto che ci sono anche delle procedure da fare papà io vorrei informarmi da sola sulle scuole vorrei scegliere la scuola da sola come sei propositiva bravissima il papà era di ottimo umore nel frattempo la nonna non era rimasta ferma un momento tra sistemare in uno scatorone le verdure che aveva raccolto nell'orto preparare i mazzetti di erbe aromatiche e il resto poi mentre metteva in una bella scatola i vasetti di marmellata che aveva preparato con mai e la quiche della sera prima disse con orgoglio questa marmellata l'ha fatta mai il papà rimase ammirato mai sei diventata una perfetta ragazza di campagna l'ideale della nonna avrebbe voluto aggiungere ma non lo disse il papà partì per andare dalla mamma e portarle la buona notizia mai e la nonna uscirono in cortile per salutarlo gli insetti della sera erano irrequieti le formiche si stavano spostando in lunghe colonne mentre alcuni piccoli insetti simili alle mosche e le api volavano qua e là senza sosta da ovest stavano salendo nuvole grigio scuro credo che pioverà mormorò la nonna quando mai si svegliò il mattino conseguente stava effettivamente piovendo all'alba aveva sentito il rumore della pioggia nel dormiveglia guardando in cortile dalla finestra si vedevano le piante leggermente piegate sotto una pioggia sottile intorno a mai all'improvviso non c'era più pace in due tre giorni avrebbe dovuto lasciare la casa della nonna e cominciare a fare i preparativi per il trasloco le telefonate della mamma erano diventate continue trasferendosi nella città di t non sarebbe più potuta tornare tanto spesso sia mai sia la nonna lo sapevano bene anche se non ne parlavano mai scelse un momento in cui la pioggia era diminuita per raggiungere il suo posto si sedette sul solito ceppo e si mise ad apprezzare il suo spazio isolato dal mondo esterno al che dalle parti del boschetto di bambù di fronte a lei le piante si mossero in modo innaturale mai guardò con maggiore attenzione pensando che si trattasse di un uccellino e invece era genji con una zappa mai ci restò di sasso i battiti del suo cuore accelerarono improvvisamente sembrava che genji non l'avesse ancora notata cominciò non curante a spianare con la zappa al gradino al confine con il boschetto di bambù che starà facendo ma sta espandendo il suo terreno usurpando il mio quando lo capì le venne la pelle d'oca istintivamente si alzò in piedi e in quel momento il suo sguardo incontrò quello di genji che si era accorto di lei sul momento l'uomo sembrò imbarazzato ma sfoggiò subito un sorriso di circostanza e forse percependo l'ostilità che bruciava come un fuoco dentro mai una volta tanto si spiegò sto raccogliendo germogli di bambù lei gli lanciò un'occhiataccia terribile e corse via senza dire nulla nonna la nonna tornò immediatamente dall'orto notando che mai era visibilmente alterata che cosa è successo prima di tutto la nonna fece accomodare mai al tavolo e le chiese spiegazioni quando ebbe raccontato tutto si sedette di fianco a mai che respirava ancora affannosamente e le accarezzò la schiena mai ti sei dimenticata l'addestramento da strega la nipote emise un gridolino e si sentì come se avesse ingoiato qualcosa tutto ad un fiato che senso agitarsi così tanto hai una faccia sembra che abbiano cercato di ucciderti perché mi sono sentita come se avessero cercato di uccidermi il pensiero che quell'uomo rozzo e disgustoso stesse invadendo il suo santuario era insopportabile non riuscirò mai a controllare il mio disprezzo per quella persona mai non aveva intenzione di cedere almeno su questo genji ha detto che stava raccogliendo germogli di bambù no che male c'è non è possibile che sia vero perché la nonna non capisce perché la nonna prende le parti di quell'uomo cattivo e grezzo quando parliamo di lui la nonna diventerà persona che non riconosco più e si allontana da me mai si nervosi e avrebbe voluto piangere perché si sentiva abbandonata astento aggiunse è un reato la nonna se ne stava in silenzio se glielo lasci fare ti porterà via tutto il terreno la nonna sorrise guardando mai c'è la canfora no poi i castagni e altri alberi non supererà quel limite anche se stesse davvero facendo quello che dici tu la nonna interruppe mai con delicatezza prima che potesse ribattere e proseguì e poi mai penso che tu sia stata molto sgarbata con genji sei tornata a casa senza nemmeno salutare o sbaglio ci sarà rimasto male mai si morse il labbro e allora tutto quello che quell'uomo ha fatto a me la nonna non sa niente nemmeno come parla alle sue spalle però non posso dirglielo non posso dirglielo io non riuscirò mai a non reagire di fronte a queste cose a far finta di niente non riuscirò mai a farmi piacere quella persona quello schifoso può può anche morire mai la nonna gridò e diede uno schiaffo sulla guancia mai fu questione di un istante la nipote rimase a bocca aperta poi cominciarono a sgorgarle le lacrime tu tieni di più a lui che a me fu l'unica cosa che ebbe la forza di dire poi si alzò salì nel sottotetto si chiuse nella sua stanza si infilò nel letto e si coprì fin sopra la testa la nonna è cattiva non doveva umiliarmi così per difendere quell'uomo poi la nonna è cattiva non pensavo che fosse così incivile è tutta colpa di quell'uomo senza di cui io e la nonna saremmo state benissimo quell'uomo non merita di vivere ecco me lo odio alla fine mai stanca di piangere si addormentò durante la notte un rumore la svegliò era il rumore della nonna che apriva pian piano la porta mai si sentiva un po in imbarazzo ma per farle capire che se n'era accorta parlò per prima che ore sono quella voce risuonò bruscamente nel silenzio totale della stanza la nonna rispose sono le 11 non hai fame perché non scendi a mangiare qualcosa in quel momento con un tempismo perfetto la pancia di mai brontolò con un suono bizzarro e prolungato la nonna scoppiò involontariamente a ridere anche la nipote venne da ridere ma si irrigidì e fece una strana smorfia non le restava che scendere al piano di sotto sul tavolo c'erano della zuppa al pomodoro e un'insalata con banane mele e yogurt la nonna riscaldò la zuppa e tostò delle sottili fette di pane la nipote era imbronciata e non diceva nulla mentre la nonna aveva la premura che si riserva ai malati mai era confusa tra la ferma risoluzione di non cascarci e il desiderio di tornare affiatate come prima e non sapeva che fare quando la nipote ebbe finito di mangiare e si accingeva a tornare in camera sua la nonna le disse mentre era voltata di spalle night night sweetie mai si voltò e le rispose senza esitazione come se ce la stesse mettendo tutta a lanciare una fune a una barca che si era allontanata troppo però anche tu non hai perso la calma e hai reagito alle mie parole la nonna le strizzò l'occhio con un sorrisetto può capitare anche il giorno successivo piove sin dal mattino c'era silenzio sia fuori sia dentro casa dalla sua camera sembrava di sentire il rumore della pioggia che bagnava le foglie secche per terra si insinuava anche nel cuore e mai se ne stava immobile come un animaletto ferito pian piano la pioggia diminuì e nel pomeriggio cessò però a guardare il cielo avrebbe potuto ricominciare da un momento all'altro mai uscì a fare una passeggiata sul monte dietro casa dopo aver avvisato la nonna il giorno successivo sarebbe dovuta partire visto che il terreno aveva assorbito parecchia pioggia doveva stare attenta a non scivolare ma giunta all'ingresso del suo posto ebbe un attimo di esitazione dal bosco di cedri del giappone in fondo al sentiero stava salendo lentamente la nebbia mai cominciò a camminare in quella direzione senza un motivo preciso sentiva che laggiù c'era un mondo più sereno e tranquillo in cui voleva immergersi camminò attraverso un bosco di conifere oltre il quale si estendevano a palude era da lì che saliva la nebbia l'odore di erba si percepiva appena ed era diverso da quando era bel tempo trasformato in minuscole particelle d'acqua verde penetrava nei pori e nelle narici di mai mai pensò distrattamente che aveva la sensazione di esserci già stata in quel posto all'improvviso il cielo si schiarì e scesero dei deboli raggi di sole allo stesso tempo sentì un odore molto dolce e guardò più attentamente nella direzione da cui proveniva sul fianco della montagna oltre la palude notò un grosso albero che sarà stato alto 20 o 30 metri con un gran numero di fiori di almeno 20 o 30 centimetri di diametro che lo adornavano come tante lanterne di carta accese quei fiori sembravano parecchio più grandi di quelli di una magnolia e simili all'oto ma quelli sono dei fiori di loto che crescono fuori dall'acqua anche se la nonna ha detto che non è possibile sembravano un sogno in mezzo alla nebbia mai ne era così affascinata che non riusciva a muoversi se è vero che abbiamo un'anima come dice la nonna quanto sarebbe bello se potesse volare libera dal corpo intorno a quei fiori ne era così affascinata che si spaventò capì che stava per udire quelle voci che non voleva sentire nel tentativo di tornare sui suoi passi andarsene mai fece un passo falso e cadde dentro una buca con un profondo dislivello non si fece niente di male ma si sporcò tutta di fango mentre stava cercando di rialzarsi sgrano gli occhi per lo stupore su un lato della buca c'era una sorta di ulteriore anfratto totalmente ricoperto di bellissimi fiori argentei lì in quel luogo buio nei recessi di una foresta dove anche il sole stentava ad arrivare quelle piante alte circa venti centimetri e senza foglie avevano in cima i gambi ricoperti di squame bianche dei piccoli fiori simili a orchidee che sembravano ninnoli d'argento era uno spettacolo curioso vederli spuntare dal terreno a decine come fossero funghi o equiseti mai li fissò per un po completamente dimentica di se stessa ma quando di il rumore della pioggia che si faceva strada tra gli alberi finalmente si alzò le faceva male il ginocchio prese uno di quei fiori misteriosi e uscì dalla buca nel cortile sul retro si imbatté nella nonna che stava per uscire con l'ombrello forse stava vedendole incontro perché aveva cominciato a piovere corse da mai vedendola tutta sporca di fango che cos'è successo sei tutta sporca ti sei fatta male ho trovato un fiore che non avevo mai visto forse una specie nuova mai fece attenzione a non sembrare troppo entusiasta perché non aveva ancora fatto del tutto pace con la nonna come sono complicate queste cose la nonna per un attimo rimase immobile per lo stupore ma poi fece subito un esclamazione di felicità e prese il fiore questo è un fungo fantasma è la prima volta che ne vedo uno quest'anno sei caduta nella buca vero avanti intanto entra e cambiati mai fu un po delusa dal fatto di non aver scoperto una nuova specie prima di tutto si fece la doccia e quando entrò con i vestiti puliti in cucina il fungo fantasma era stato posizionato in un piccolo vaso e faceva bella mostra di sé davanti alla fotografia del nonno la nonna aveva preparato del tè nero bollente per mai questo era il fiore preferito del nonno lo chiamava spirito delle rocce perciò ogni anno in questo periodo ne metto uno davanti alla sua foto quando eri piccola sei venuta anche tu a raccoglierli però quest'anno sei andata a prenderlo da sola mai le domandò sorseggiando il tè fioriscono ogni anno solo in questo periodo si spuntano ogni anno quando cade tanta pioggia e il terreno si insuppa sono fiori che non hanno bisogno di sole poi al di là della palude c'era un albero con un sacco di fiori bianchi giganti ah quella è una magnolia giapponese i suoi fiori si chiudono al tramonto e al sorgere del sole si riaprono e anche quando cominciano ad appassire restano sempre aperti te ne accorgi dall'odore che fiorisce emanavano un odore dolce e pungente esatto e come un richiamo che aleggia nell'aria la nipote si mise a guardare il fungo fantasma lo spirito delle rocce lo splendore di un mondo terroso in cui la luce del sole non arriva e le sembrò un regalo del nonno che sentì vicino a lei in quel giorno in quella cucina c'era intorno al tavolo una presenza misteriosa come se insieme a mai e la nonna ci fosse qualcun altro che stava bevendo silenziosamente il tè il mattino in cui mai infine doveva lasciare la casa della nonna il cielo era terzo a differenza dei giorni precedenti la mamma che era venuta a prenderla si accorse che mai aveva qualcosa che non andava ma pensò che fosse perché doveva salutare la nonna la nonna chiese alla mamma se aveva davvero intenzione di smettere di lavorare e lei rispose dopo essersi accertata che mai fosse nella veranda tra una porta e l'altra della cucina è la conclusione a cui sono giunta parlandone anche con lui vivere in case separate vedermi poco perché lavoro potrebbe essere stato molto pesante per mai quindi per il momento la scelta migliore mi sembra quella di lasciare lavoro e trasferirmi nella città di ti hai fatto la cosa giusta beh ho pensato alle mie priorità ci devi pensare per capirlo quel sorriso offese la mamma ascolta non ho intenzione di smettere di lavorare per sempre non riesco a vivere come te io ho la mia vita e tu non puoi imporre né a me né a mai come viverla in effetti può darsi che sia all fashion inutile dirlo a mai non sfuggì nulla di quella conversazione stava annaffiando per l'ultima volta il non ti scordare in me nano senti tanta tristezza nelle parole della nonna e avrebbe voluto andare via anche per la mamma fu sicuramente doloroso stai bene non è da te parlare così che cosa avrei dovuto dire sei sempre così sicura di te mai pensò che aveva ragione la nonna sa sempre come la cosa giusta da fare trascorre una vita regolare come le piante in giardino al contrario di lei che era sempre in ansia e non era mai sicura di quello che faceva poco dopo prepararono tutte insieme dei sandwich come il primo giorno in cui era arrivata e li mangiarono la mamma notò che mai non toglieva le foglie di nasturzio ma non disse niente quando alla fine salirono in macchina e salutarono la nonna mai avrebbe voluto piangere più che la tristezza per la separazione sentiva un peso sul cuore la nonna guardava mai con uno sguardo tra il preoccupato e il triste la nipote lo sapeva la nonna avrebbe voluto che le dicesse come sempre ti voglio bene nonna ma non riuscì la macchina partì uscirono dal cancello curvando nella stradina e anche se non la poteva più vedere mai sentì lo sguardo speranzoso della nonna su di lei da quella volta sono passati due anni mai va a scuola tutti i giorni anche nella nuova scuola ovviamente c'erano i gruppi ma non erano così radicali come nella scuola precedente inoltre mai era riuscita a trovare una nuova amica si chiamava scioco scioco aveva dei gusti e dei valori singolari e bastava stare insieme a lei per divertirsi si esprimeva schiettamente ma senza cattive intenzioni e non parlava mai a vanvera ma non era il tipo che seguiva il gregge scioco non aveva bisogno del gruppo non abbassava mai la testa e affrontava le cose di petto aveva una personalità inconfondibile che permeava tutto il suo essere mai aveva fatto amicizia con lei subito dopo essersi trasferita da quel momento qualsiasi cosa facessero erano sempre insieme non si dimenticò l'addestramento da strega ancora oggi mai ce la mette tutta per rispettare fino in fondo le decisioni che prende da sola senza lamentarsi forse facendo questo sforzo le è sembrato in qualche modo di non recidere il legame con la nonna quando pensava la nonna era sempre amareggiata era ancora convinta che se aveva detto delle cose così terribili su genji era stata colpa di una fuoriuscita di sentimenti per lei impossibile da contenere aveva imparato da poco il termine fuoriuscita leggendo un libro ma non l'aveva mai usato per cui non la sentiva ancora come una parola sua non aveva intenzione né di pentirsi né di dispiacersi per il suo comportamento forse anche la nonna le aveva dato lo schiaffo per una fuoriuscita di sentimenti impossibili da frenare anche lei prima di essere una strega era una persona mai aveva cominciato a ragionare in quei termini dopo aver lasciato la casa della nonna in effetti c'era ancora una parte del suo cuore che non voleva perdonarla ma richiedeva molta energia a mantenere questa posizione mai non ne aveva più voglia inoltre anch'io alla fine non mi sono comportata bene con lei salutarsi in quel modo lasciarla sola non è stata una cosa così crudele quando finalmente le ali della sua immaginazione giunsero fin lì mai sentì il peso di quel fardello avrebbe dovuto chiedere perdono per ciò che aveva fatto ben più che pretenderlo per ciò che l'era stato fatto la prossima volta che vedo la nonna devo avere il coraggio di dirle tutto devo parlare con il cuore in mano così la nonna avrebbe fatto ancora una volta uno dei suoi sorrisetti e avrebbe detto qualcosa che le avrebbe permesso di dormire sonni tranquilli mai si ripeteva sempre queste cose però finché non la rivedo e non dico tutto sento questo peso dentro di me fino a quel momento mai avrebbe messo in pratica il più possibile gli insegnamenti della nonna in modo da poterla rendere un pochino più fiera al successivo incontro affrontava qualsiasi cosa senza rendersi per lei era naturale ora ma scioco nutriva rispetto e ammirazione per quell'atteggiamento perché invece lei tendeva a non concludere quello che cominciava alla fine dopo quel soggiorno non era più tornata a casa della nonna la mamma aveva ripreso a lavorare quando la vita scolastica di mai aveva cominciato a ingranare il papà era come sempre occupato mentre mai come al solito si riempiva le giornate di impegni mai ripensò a quei giorni di due anni prima mentre si dirigevano verso casa della nonna anche al suo posto che le piaceva tanto e al fatto che in quei due anni non ci aveva praticamente più pensato era ancora importante per lei era il suo santuario eppure chissà perché se n'era dimenticata mai si sentì in colpa quando la macchina entrò nel giardino davanti alla casa della nonna c'era una macchina sconosciuta mai e la mamma scesero in fretta e furia dall'auto e raggiunsero direttamente l'ingresso dall'interno della casa uscì genji mai lo fissò dopo tanto tempo che non lo vedeva provando sensazioni contrastanti dov'è mia madre chiese la mamma in tono formale senza nemmeno salutarlo genji in silenzio indicò la stanza della nonna la mamma si precipitò in quella direzione senza dire nulla genji fece un piccolo inchino guardando mai che ricambiò in modo goffo per poi seguire la mamma la nonna era distesa sul futon il fazzoletto bianco sul suo viso tipicamente usato in giappone per mai fu scioccante quanto una doccia fredda a che la nonna deve metterlo in quel momento la mamma disse con una voce da far venire i brividi a casa nostra non si usa e lo tolse sotto comparve il volto dimagrito e invecchiato della nonna si invecchia così tanto in due anni lei preferirebbe così disse la mamma con una voce che non tradiva emozioni mai provò pena per sua madre le sembrò una figlia abbandonata scusami mai potresti andare un momento in cucina mai fece come era stato detto in silenzio più che la tristezza per la morte della nonna un terribile rimorso per non poter più rimediare cominciò ad avvolgere il suo cuore come uno strato di catrame nerissimo dentro di lei si aprì una profonda ferita sentì quel dolore che prendeva il controllo di tutto il suo essere pensò che non sarebbe più riuscita ad affrontare la vita allo stesso modo fu allora chiudì la mamma a scoppiare in lacrime sentì le sue labbra raffreddarsi e tremare per diverso tempo rimase immobile ma tornò in sé quando percepì che la mamma era entrata in cucina devo chiamare i parenti in inghilterra penso che papà arriverà a breve se non ricordo male da queste parti c'era una rubrica con i nomi dei conoscenti della nonna dei tempi in cui insegnava la mamma cominciò a cercare aprendo gli armadi mai si alzò per aiutarla trovarono la rubrica nel cestino da cucito allora io faccio un po di telefonate va bene una rimase lì l'altra andò in soggiorno entrambe con i loro rimorsi quando la mamma fu uscita mai si accasciò sul tavolo e contorcendo il viso emise un lamento forzato non era semplice tristezza forse il termine più adatto a descrivere il suo stato d'animo era dolore straziante che non sapeva come gestire non riesco neppure a piangere questa freddezza che cosa mi sta accadendo in quel momento all'improvviso senti bussare alla porta della cucina guardò in su era genji si alzò con molta lentezza e aprì la porta non sentiva più niente ed era come se il suo corpo fosse avvolto da migliaia di foglie sottili come un bozzolo in genji non c'era traccia dell'atteggiamento arrogante che un tempo la spaventava curvò quel corpo che sembrava essere diventato molto più piccolo e le porse qualcosa potresti metterlo in un vaso era un fungo fantasma mai lanciò involontariamente un grido di stupore poi lo prese con entrambe le mani piaceva al signore che viveva qui io non valgo niente ma sono stati buoni con me disse genji con gli occhi annebbiati stava piangendo se posso fare qualcosa dimmelo parlò a bassa voce e mentre era in procinto di andarsene gli cadde per caso l'occhio per terra come rigogliosa l'erba citriolina anche mai se ne accorse la pianta che lei chiamava non ti scordar di me nano era diventata un piccolo cespuglio ed era fiorita in tutto il suo splendore questa si chiama erba citriolina era la prima volta che mai rivolgeva la parola genji senza provare sentimenti negativi forse perché era già entrata tutta intera nel suo bozzolo io la chiamo così genji chino la testa e uscì nelle mani di mai c'era proprio un fungo fantasma quel fiore misterioso che sembrava un innolo d'argento quel fiore che non rivedeva da due anni e da cui non riusciva a staccare gli occhi mise il fungo fantasma in un piccolo vaso e lo espose davanti alla foto del nonno come era solita fare la nonna poi andò nella veranda per annaffiare il suo caro non ti scordar di me nano piegò la schiena le cade l'occhio sul vetro sporco proprio in quel momento rimase come folgorata e si sedette per terra su quel vetro sporco c'era una scritta fatta con un dito o qualcos'altro come facevano spesso i bambini dalla strega dell'ovest alla strega dell'est l'anima della nonna è riuscita a liberarsi mai pensò che prima non c'era quando era passato genji oppure c'era e semplicemente non l'aveva notata la nonna la nonna la nonna si è ricordata la promessa in quell'istante mai si sentì pervadere dall'amore della nonna come un fascio di luce che la investiva quella luce travolgente sciolse il suo bozzolo e fu come se tutti i sentimenti che aveva rinchiuso dentro di sé ritornassero in vita allo stesso tempo realizzò che la nonna era morta per davvero non sapeva se essere felice o triste chiuse gli occhi strinse forte i pugni come se l'avessero colpita e non riuscì a trattenersi dal gridare ti voglio bene nonna pianse un mare di lacrime e in quel momento fu certa di averla sentita quella voce che si aveva tanto desiderato udire risuonò riempiendo il suo cuore quella cucina come facevano i suoi dolci sorrisi i know